Questo film mi incuriosiva, non che lo stessi aspettando con chissà quale trepidazione, con chissà quale curiosità, però come tutti i film di ambientazione storica o comunque i film che vanno a raccontare una storia realmente accaduta, personaggi realmente accaduti, attirano comunque la mia attenzione ed infatti ho voluto guardarlo il prima possibile perché è già presente su Netflix. Adesso sigla e poi partiamo. Ed allora, bentrovati in questa nuova video recensione. Prima di iniziare a parlare del film vi ricordo le cose alle quali tengo particolarmente. La prima, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella in modo tale da aiutarmi a far crescere ancora di più il canale e rimanere così aggiornati anche su tutti i prossimi contenuti, quindi cliccate sul tasto iscriviti e cliccate sulla campanella. Ed inoltre, se mi volete ulteriormente supportare a costo zero semplicemente facendo i vostri acquisti su Amazon, io vi invito a farli utilizzando il link che trovate in descrizione perché è un mio link di affiliazione e se voi lo utilizzate a voi non cambia nulla, non spenderete un centesimo in più qualunque siano i vostri acquisti, anche non necessariamente a tema cinema, ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da Amazon al sottoscritto. Ma passiamo a parlare appunto del film che voglio recensirvi oggi, un film che appunto era sbarcato nella piattaforma di streaming Netflix, tanto che infatti era uno dei film che vi avevo già segnalato anche in quello che era il video di riepilogo del mese di gennaio, proprio per quanto riguarda le uscite su Netflix durante questo mese. Un film che avevo puntato, sicuramente non è il film più importante di questo mese, non è un film come già detto poc'anzi che io attendessi con chissà quale trepidazione, però mi incuriosiva proprio perché chi mi segue da un po' di tempo lo sa, io sono un grande appassionato di film di ambientazione storica, di film comunque che parlano di storie realmente accadute, di personaggi realmente esistiti. E siccome questo film racconta uno spaccato di una parte importante, tra l'altro di quella che è la storia del 1900, fondamentalmente quindi della storia recente dell'Europa, quindi mi incuriosiva, volevo guardarlo, è arrivato su Netflix ed infatti sto parlando di Monaco sull'orlo della guerra. Un film che racconta infatti una parte ben precisa di quella che è stata la storia politica, sociale dell'Europa del 1900, siamo negli anni 30, in particolar modo alla fine degli anni 30, poco prima di quella che poi sarà la seconda guerra mondiale, fondamentalmente. Ed infatti questo film, chiaramente ne parlerò senza fare spoiler, tranquilli, anche se poi vabbè spoiler fino a un certo punto, perché stiamo raccontando e stiamo parlando di fatti realmente accaduti, però magari chi non dovesse avere grandissime conoscenze storiche potrebbe appunto avere degli spoiler. Però ecco, vi do come sempre una infarinatura generale di quella che è la storia del film, appunto siamo alla fine degli anni 30, abbiamo la presenza di quelle che sono le più grandi potenze mondiali, dagli Stati Uniti alla Francia, abbiamo anche la presenza dell'Italia, ovviamente, abbiamo anche la presenza della Germania, che già in questo momento storico è governata da Adolf Hitler, ed infatti il film si propone di illustrarci, di mostrarci, proprio quelle che sono state le fasi che hanno preceduto la seconda guerra mondiale, soprattutto il momento in cui la Germania di Hitler si proponeva di invadere i territori della cieco Slovacchia, chiaramente andando a in qualche modo causare l'irritazione, causare anche la risposta da parte di altre nazioni, come appunto la Francia, come appunto gli Stati Uniti, anche il Regno Unito ovviamente ho dimenticato di citare, chiaramente Germania che a sua volta era alleata con l'Italia, tanto che infatti in questo film si vede anche Mussolini, e tutto questo chiaramente portò alla cosiddetta conferenza di Monaco, proprio perché si doveva cercare di trovare una soluzione a questo inghippo, una soluzione a questa situazione, proprio per poter scongiurare fondamentalmente la guerra mondiale, che poi ovviamente sarebbe comunque arrivata. Mi fermo qua, proprio perché non voglio comunque andare oltre nella descrizione della trama, ripeto lo spoiler è relativo perché sappiamo benissimo come purtroppo le cose siano andate da quel momento in poi, però ecco non voglio andare oltre, anche perché sarebbe totalmente superfluo andare ad approfondire quella che è la trama del film. Quello che mi preme appunto fare è parlare proprio di questa pellicola che mi incuriosiva, un film tra l'altro nel quale abbiamo la presenza di un nutrito cast, perché comunque abbiamo tanti personaggi che si alternano in scena, tanti personaggi che appunto fanno riferimento al Regno Unito, agli Stati Uniti, abbiamo appunto la presenza chiaramente anche di Adolf Hitler, abbiamo, si vede anche appunto Mussolini per alcuni momenti durante la pellicola, tra gli attori che abbiamo in questo cast, attori che non sono tanto famosi per la stragrande maggioranza, abbiamo due che sicuramente spiccano, perché? Perché da una parte George McKay, che ve lo ricordo è uno dei due soldati di 1917 di Sam Mendes per intenderci, quello biondino, che tra l'altro è stato anche protagonista qualche anno fa del film Captain Fantastic con Viggo Mortensen, e poi un altro grandissimo attore che non credo abbia bisogno di alcuna presentazione è Jeremy Irons, che va ad interpretare infatti il governatore, o comunque il capo di governo del Regno Unito, cioè Chamberlain, durante appunto quella che era la fase di preparazione purtroppo alla Seconda Guerra Mondiale, quindi sono questi due, diciamo, le punte di diamante di questo film, poi gli attori, altri attori, io non li conosco, però fondamentalmente sono degli attori comunque bravi, perché vanno ad interpretare tutti quelli che sono i ruoli chiave nella, diciamo, quella che era la situazione sociopolitica di quegli anni. Voglio segnalare anche l'attore che interpreta Adolf Hitler, perché è davvero inquietante, quindi bravissimo, è stato in grado di cogliere, forse non da un punto di vista prettamente estetico, perché somiglia poco all'Hitler reale, all'Hitler vero, ma da un punto di vista di quella che è la, come dire, l'impatto visivo, di quella che è la, anche la presenza scenica di questo attore, c'è poco da dire, è davvero inquietante da morire, quindi bravissimo, bravissimo lui. Allora, ve lo devo dire, a me il film non è che non sia piaciuto, il film comunque, tutto sommato, è passato gradevolmente, perché dura un paio d'ore, all'incirca, però non posso dire neanche di essere rimasto entusiasta, ci sono diverse cose che purtroppo non funzionano e che avrebbero anche permesso, qualora avessero funzionato meglio, di far rendere il film nettamente migliore, un'opera nettamente più avvincente e anche interessante, mi verrebbe da dire. Perché? Perché è chiaro che io, da appassionato, ripeto, di film che raccontano storie realmente accadute, di frammenti, di quella che è la storia recente del nostro pianeta, posso anche rimanere maggiormente emozionato, maggiormente interessato alle vicende raccontate, ma ci sono secondo me delle problematiche in questo film, soprattutto tecniche, ora vedremo, che non lo fanno decollare fino in fondo, tanto che infatti il risultato finale è un risultato un po', come dire, traballante, un po' zoppicante. Non è un brutto film, assolutamente, un film al quale io darei ampiamente la sufficienza, fosse anche solo per l'ottima prova di Jeremy Irons, per l'ottima prova anche di George McKay, di tutto quello che è il cast appunto presente in questo film, per alcune cose non vanno. Tra le cose che non vanno, così ci togliamo immediatamente il dente, tra le cose che purtroppo non vanno abbiamo, secondo me, la regia ed il montaggio. Due elementi che normalmente sono fondamentali in un film, ovviamente, perché? Perché sia la regia sia il montaggio vanno in qualche modo a dare quella che è fondamentalmente la caratteristica principale del film, quindi va a dare il ritmo, soprattutto il montaggio, ci permette di avere il quadro della situazione in maniera più o meno rapida, ci permette di andare anche a capire quelle che sono le situazioni che ci vengono raccontate da un punto di vista registico, ci deve in qualche modo fare immergere in quella che è la storia che ci viene mostrata. Poi, è chiaro, la regia deve anche essere in grado di farci vedere determinate cose piuttosto che altre, ci deve far capire anche quelle che sono le situazioni nelle quali si trovano i personaggi. Chiaramente la regia è la componente forse più importante di un film, insieme anche a tutte quelle che sono le altre componenti, soprattutto tecniche, secondo me, in questo film. Anche il montaggio, per esempio, è un montaggio molto serrato, un montaggio quasi adrenalinico, mi verrebbe a dire, ma che in un film del genere forse non funziona a dovere. Un film di questo tipo, probabilmente, avrebbe goduto maggiormente di ritmi molto più lenti, ma non necessariamente noiosi, di ritmi lenti che permettessero di, innanzitutto, anche, appunto, comprendere quella che è la storia raccontata, e secondo me ci sono dei momenti in cui la storia accelera troppo, accelera troppo perché vorrebbe quasi prendersi, mi verrebbe a dire, le caratteristiche di uno spy movie, quando spy movie non è, fondamentalmente, perché è un dramma storico, in alcuni momenti vorrebbe, appunto, prendersi quelle caratteristiche, vorrebbe tanto avere le caratteristiche di uno spy movie, ma il film non è gode, non gode né del montaggio serrato, né della regia anche con la camera a mano, con una, come dire, delle inquadrature solitamente non stabili, quindi ci sono tutta una serie di caratteristiche che mi fanno pensare quasi alla volontà, chiaramente, del regista di comunicare una sorta di impazienza in quello che i protagonisti stavano vivendo in quel momento, il che ci sta, il che ci sta, perché a posteriori noi sappiamo benissimo come le cose siano andate, quindi è ovvio che in quel momento si viveva una situazione anche instabile, una situazione frenetica, però probabilmente la storia in sé per sé, dato che non ci troviamo davvero in quel momento, nella seconda guerra mondiale, quindi ci troviamo in quelle che sono le fasi precedenti, più o meno un anno prima, un anno e mezzo prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, forse, forse, una maggiore lentezza, un maggiore, non per forza lentezza, comunque una maggiore gradualità anche nel voler raccontare le cose, nel volerci mostrare le cose, anche, ripeto, una maggiore capacità di far sì che lo spettatore possa prendere coscienza e conoscenza di quelle che erano le varie situazioni relative alla Francia, relative alla Gran Bretagna, alla Germania, probabilmente avrebbero reso il tutto un film più convincente, non un film eccezionale, probabilmente, un film eccezionale non sarebbe forse neanche uscito fuori in quel caso, perché non è neanche un film pessimo in questo caso, lo voglio sottolineare, però ecco, il risultato forse sarebbe stato migliore, proprio con quelle caratteristiche, ovviamente, opinione personale, però ecco, quello che ho percepito per tutte le due ore è quasi la volontà di farci vedere le cose, di farci capire che cosa stesse succedendo, proprio con una sorta di fretta involontaria, che non fa bene al film, non fa bene al film, il film comunque si salva, cioè nel senso che il film non è un pessimo film, lo ripeto, per tante cose, è un ottimo film, cioè un ottimo film dal punto di vista attoriale, perché Jeremy Irons, vabbè, davvero, non credo ci sia bisogno di presentazioni, interpreta il capo di governo inglese, Chamberlain, bravissimo, ma di lui non mi sorprendo affatto, chiaramente, George McKay è uno dei funzionari inglesi, anche lui si comporta più che bene, ripeto, bravissimo l'attore che ha interpretato Hitler, un po' tutti si comportano bene in scena, quindi, da un punto di vista strettamente recitativo, niente da dire, non ho niente da dire, mi sono piaciute tantissimo, tantissimo anche le scenografie, la ricostruzione di quelli che sono gli ambienti dell'epoca, sia negli esterni, sia negli interni, quella è stata una delle chicche del film, uno dei punti di forza migliori, forse il punto di forza migliore di questa pellicola, davvero ottime, ottime le ricostruzioni, mi hanno convinto appieno, più che buona anche la fotografia, diciamo che il film è tutto sommato si salva, quindi non posso dire di essere rimasto deluso da questa pellicola, anche perché non avevo grandi aspettative, quindi non riesco a bocciare il film, non è un film da bocciare, è un film che anzi mi sento di consigliarvi, proprio, soprattutto se siete incuriositi da quelle che erano proprio le fasi preparatorie, purtroppo, alla Seconda Guerra Mondiale, che non dovevano essere delle fasi preparatorie, dovevano essere delle fasi che dovevano, in qualche modo, evitare lo scoppio della guerra, poi in realtà questo non successe, chiaramente anche a causa dei doppi giochi di Hitler, durante quelle che erano le fasi anche di contrattazione, anche la firma stessa di quello che fu il convegno di Monaco, con l'impegno da parte della Germania di non portare avanti alcun tipo di ulteriore movimento nei confronti, movimento quasi offensivo nei confronti del resto dell'Europa, poi questo chiaramente non avvenne, tanto che, infatti, la Seconda Guerra Mondiale, purtroppo, ebbe luogo, però ecco, il tutto avrebbe reso al meglio proprio con quelle cose che ho detto poc'anzi. Io avrei goduto maggiormente di quella che era, appunto, la storia, avrei trovato un film migliore se mi avessero quasi accompagnato lentamente, proprio, fino a quella che anche era la soglia della Seconda Guerra Mondiale, ma con maggiore gradualità, con maggiore, non lentezza, ma proprio con un ritmo che non doveva, per forza di cose, essere quello di uno spy movie, perché in alcuni momenti, in molti momenti, soprattutto nella seconda metà del film, il film quasi vuole essere uno spy movie anche per quelli che sono i personaggi coinvolti. Ripeto, non voglio fare spoiler, ma ci sono soprattutto due personaggi coinvolti, e uno di questi è quello di George McKay, che, in qualche modo, hanno il ruolo di spie per cercare, in qualche modo, anche di neutralizzare l'offensiva di Hitler. Non voglio andare nel dettaglio, però, ecco, il film, secondo me, prende una piega che non è stato in grado di convincermi totalmente. Un film che non voglio, in alcun modo, bocciare, però avrei voluto vedere qualcosa di diverso. Però, ripeto, ve lo consiglio perché è interessante, fosse anche solo per il contesto storico, fosse anche solo per le ricostruzioni storiche dell'epoca, per le prove attoriali. È una storia, comunque, interessante, perché ci fa riflettere, purtroppo, sugli sbagli che sono stati fatti in quegli anni, in quel periodo. Sbagli, purtroppo, probabilmente, anche, tra virgolette, in buona fede, tanto che, infatti, è un film che forse si propone anche di, diciamo, non redimere, ma, in qualche modo, di ricostruire, in senso positivo, l'immagine di Chamberlain, perché, fondamentalmente, Chamberlain fu un capo di governo che, poi, dovette anche pagare con le sue dimissioni. Ripeto, non faccio spoiler, ma è la verità e la realtà, proprio quello che poi successe, realmente. E cioè, l'ascesa di Hitler e l'invasione di Hitler da parte di quelle che sono, di quelle che erano le nazioni vicine. Quindi, tutto questo, chiaramente, portò ad una instabilità grave in Europa, e poi, infatti, la Seconda Guerra Mondiale esplose nella realtà dei fatti. Quindi, un film senza infamie e senza lode, un film tutto sommato sufficiente per un paio d'ore senza grandi pretese, per un paio d'ore che vi permetteranno di respirare un'atmosfera, chiaramente, anche abbastanza pesante, perché, consapevoli del fatto che, in realtà, tutto sarebbe andato a rotoli, è ovvio che guardare quello che successe, proprio in quegli anni, ci fa quasi anche rabbia, perché tutto quello che poi, effettivamente, accade, si poteva facilmente, facilmente, relativamente, facilmente evitare. Però, è chiaro, la storia è questa, non si può cambiare più, né tantomeno può cambiarla questo film. Però, ecco, è interessante, sicuramente è un film interessante, ecco, se devo trovare un aggettivo, dire interessante, non perfettamente riuscito, non ottimo, non un film riuscito al 100%, però, sicuramente, è un film che consiglio, soprattutto, agli appassionati del genere, perché un paio d'ore senza grandi pretese, sicuramente, le potrete passare. Si poteva fare meglio? Sì. Si poteva fare peggio? Sì. Quindi, va benissimo così, perché di film nettamente peggiori di questo ne ho visti abbastanza, quindi, va bene così. Posso anche ritenermi soddisfatto. C'è di meglio, ma c'è anche molto di peggio. Quindi, questo era quello che vi volevo raccontare del film Monaco, sull'orlo della guerra, presente, appunto, nella piattaforma di streaming Netflix. Chiaramente, come sempre, in questo momento non rimane che dire a voi, cioè, che chiedere a voi, anzi, che cosa ne pensate se l'avete visto. Fatemi sapere la vostra opinione, fatemi sapere se il film vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, perché vi è piaciuto, perché non vi è piaciuto. Magari riuscite a trovare dei punti di forza diversi da quelli che ho detto io, dei punti deboli, magari, che io non ho preso in considerazione. Fatemi sapere la vostra opinione, come sempre, fatelo qui sotto, tra i commenti, perché leggerò tutto con molto, molto piacere. Questo, quindi, era quello che pensavo del film Monaco, sull'orlo della guerra. Io vi ringrazio, come sempre, per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi, guardando i miei video, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti e aiutarmi a far crescere il canale. Se volete ulteriormente supportarmi a costo zero, sapete che potete fare gli acquisti su Amazon direttamente attraverso il link presente in descrizione. Voi non cambia nulla, non spenderete un centesimo in più, ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da Amazon al sottoscritto. Noi ci becchiamo ad una prossima video recensione, ad un prossimo video, o anche nella mia pagina Facebook, Dr. Cinema, alla quale vi consiglio sempre di iscrivervi. Vi auguro, come sempre, anche una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto. Ciao a tutti!